Il lift dovrebbe essere qui. Ci stiamo avvicinando a Corsica. È andata bene lassù. Mi avete aiutato a fuggire e stiamo lavorando insieme. Siamo una squadra, piccoletto. È così che funziona. Sì. Ok. In qualche modo il difetto che pensavo fosse in trappola è scappato. Che diamine. È anche aiutato a riparare il sistema di sicurezza. Io dovrei essere arrabbiata, ma diciamo che ho emozioni... Sì. Contrastanti. Un vago complimento. Lo accetto. Dovete cercare il ragazzo. Se lo vedete, segnalate. Attento, Chai. Faranno un'imboscata sul lift. Oh, questi qui sono come il tipo di prima. Non mi conoscono. Vedi? Come va, colleghi della Vendeley? Prendete il lift? Sì. Personala di sicurezza... È il difetto. Fermatelo! No. È il tizzo che ha riparato il sistema di sicurezza. Pignoti! È il difetto! Prendetelo! Non! No! Stop! Stop! Ah, scusa! È qui la festa? Grazie mille. Scusa, amico. Mettiamoci un lavoro. Quando vuoi. Trattienili. Prossima fermata. Ara di Corsica. Preparati al peggio. Ho il vento in faccia. Sapete? È proprio rinfrescante. Sono felice tutte le spassi. Forse ti sbagli, Peppermint. Magari va tutto liscio. Arrivano. Passerà, vogliela vedere. Ci parte. Mi tocca fare sul set. Tocca a te. Arrivano altri. Ci parte. Assaggia questo. Assaggia questo. Assaggia questo. Andiamo, scappano. Chaccia. Saucio. Preparati. Ma che la può aiutare? A causa dei campiari è possibile che alcuni detriti cadano estremamente di genialità. Sono serio? Potrebbero verificarsi infortuni non partiti dall'assicurazione. Attento, Chai! Signor Chai, dovete essere confuso. Evitare significa non farsi colpire. Arrivano i rinforzi! Allunga giuttata! A loro ci penso io. Tocca a te, Peppermint! Ne arrivano altri! Aspettami! E' un'aria! E' un'aria! Mi tengo aiuto! Aspetta questo! Ci parte! Nessuna rubica! Ci parte! Mi aiuto! Prova a schivare! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sto godendo il viaggio, ma è un tunnel lunghissimo. In teoria l'ala 1 e l'ala 2 dovrebbero essere vicine, no? Altri cantieri più avanti, fare attenzione ai detriti, grazie. Di nuovo? Ma cosa stanno costruendo? Ok, spero che siano finiti. Lui è ancora su list? Dai ragazzi, concentrate! Azionate i freni! Devo disattivare i freni! Fammi provare! Lasciami a me, c'hai! Raggi, macerone! Non so io a tu! Ah, fuck! Macerone! Guarda la testa! Molta con l'hitto! Altri freni? Non freneranno mai le nostre abizioni. Ok, non ti facciano altre battute in questa missione. Macerone! Tutti fuori sul sole! Buon parte la mano! Rompite il ritorno! Altri freni? Ficcifante! Ficcifante! Lai uno! Fregi, mi macerò! Non so io a tu! Attacca tu! Limpia! Aspetta tu! Anche abitudini in arrivo! Macerone! Mi mancano due! Non so io! Tocca fuori sul sole! Mi mancano due! Macerone! Non so io a tu! Mi sento aiuto! Aiuto? State usando due! E le vostre abilità a ser macerone? Ne manca uno! Disattivalo, macerone! Sì! Cosa è te? Va tutto! E le vostre abilità a ser macerone? Non so io! E le vostre abilità a ser macerone? Non so io! Non so io! Attacca tu! E le vostre abilità! Non so io! Non so io! Non so io! Non so io! Fatto! Ora non ci ferma nessuno! Sì! In arrivo il limite di sicurezza 2! Stavo pensando! Senza i freni! Come ci fermi? Peppermint! Hai un'idea? Ah! Ora vuoi il mio aiuto! C'hai? Mi fai un po' di spazio? Mmm! Non preoccuparti! Ce lo farai! Ma per sicurezza... Meglio se ti aggrappi a qualcosa! Ci vediamo! Cosa?! Non preoccupatemi! Sto bene! Il lift è un po' in ritardo! Sono sicuro che arriverà! Sono sicuro che arriverà! Ah! 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 Ci vediamo sul piano! Ah! 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 Ah... Ah! 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 Tranquillo?